Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è giovedì 13 ottobre 2022. Iniziamo insieme la giornata dando un'occhiata ai giornali dunque informandoci su quello che è accaduto nella giornata di ieri. Apriremo come sempre il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Passiamo comunque dal passo obbligato del Almanacco così per iniziare piacevolmente la giornata e ci mettiamo oggi sotto la protezione di un santo orientale. Lo vediamo è Santeofilo di Antiochia. Santeofilo il nome significativo Amava Dio governò la chiesa di Antiochia come vescovo. Era il sesto vescovo dopo San Pietro. San Pietro fu il primo vescovo di questa città dell'Oriente. Lui visse nel secondo secolo. Fu un uomo di grande cultura. Fu autore di numerose opere di carattere apologetico. Ecco, un santo di cui un po' si è illaguidita la memoria, ma è stato un santo decisivo per quanto riguarda i primordi della chiesa. Passiamo ora alle previsioni del tempo. Il sole questa mattina è sorto alle 7 e 20, anzi sorgerà alle 7 e 20 e tramonterà alle 18 e 29. Ancora siamo nelle prime e luci dell'aurora. Lo spettacolo è sempre bello seppure il cielo è coperto. Ebbene, oggi vediamo che il tempo si presenta piuttosto incerto. Una giornata sarà parzialmente solleggiata, salvo una presenza di nubi sparse al mattino. I venti saranno al mattino da una direzione da nord-ovest e così anche nel pomeriggio. Il mare è poco mosso e le temperature oscillano un po' come nella giornata di ieri, dai 14 ai 20 gradi. Al mattino è freschino, ma la temperatura è sempre dolce. I 20 gradi sono ancora accettabili. Si teme il grande freddo che poi arriverà durante l'inverno a causa dell'aumento delle bollette. Ed ora iniziamo con le notizie a partire dal resto del Carlino. Questa mattina vediamo come appunto l'aumento del carovita, le bollette e tutto quello che sta accadendo a margine della guerra russo-ucraina sta creando gravi difficoltà agli imprenditori. Oggi abbiamo la crisi di un'azienda che il resto del Carlino pone in evidenza in apertura sulla pagina di Fano. Si tratta della Recordata, una storica azienda leader nel settore dell'informatica, è in crisi. Ieri c'è stato un SOS dei sindacati al prefetto per salvare i posti di lavoro. C'è il timore per il futuro di 35 dipendenti. Tra i rappresentanti dei lavori e il Comune e la proprietà c'è stato appunto un incontro. Non sappiamo l'esito di questo incontro, non sappiamo quali provvedimenti saranno presi. Certo è che almeno si è curata la sensibilità per cercare di salvare questi posti di lavoro. L'incontro in prefettura, sollecitato dalla CGL con tutti i soggetti interessati, aveva un duplice obiettivo, quello di tutelare i posti di lavoro e recuperare le retribuzioni non pagate, pare che gli arretrati arrivino fino al mese di maggio, cercando di capire da chi è e quando potranno essere corrisposte queste buste paga, insomma, che sono arretrate. E poi a fondo pagina abbiamo un risvolto, anche se si tratta di un altro caso, di questa situazione problematica. Una bolletta del gas è calcolata su un importo presunto, aveva raggiunto importi tra stratosferici, 800 euro per una pensionata, per una signora che viveva del poco, con poco del suo. Ebbene 800 euro, anzi per l'elettricità, è stata una somma veramente ingente. La signora ha avuto anche paura quando ha avuto coscienza di questo importo. Ebbene c'è stato un ricorso e la ditta Lestra Prometeo ha annullato la vecchia bolletta e al telefono gli è stato subito ricalcolato l'importo che è stato dimezzato, ma anche questo sembra comunque che sia un importo elevato. Sarà a Metauriglia la regina del FAI, ieri è stata presentata la giornata di autunno anche per quanto riguarda Fano e il luogo scelto è quello di Metauriglia, quale luogo del cuore. E poi i giornali parlano del rischio dell'esondazione dell'Arzilla che viene ormai posto alla ribalta anche nelle istituzioni. Oggi ci sarà un consiglio comunale a Fano, la convocazione alle 19.30 nella sede di Via Nolfi. Ebbene ci sarà una interrogazione da parte di un consigliere di maggioranza del Partito Democratico Enrico Fumante che porrà il problema della tutela dell'Arzilla in modo particolare all'attenzione della Giunta. Nel frattempo due consiglieri regionali, Luca Serfilippi della Lega e Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle hanno rivolto due interrogazioni alla Giunta per sollecitare appunto l'esecutivo ad interessarsi della sorte dell'Arzilla. L'Arzilla è un torrente molto molto, diciamo così, innocuo nei giorni normali, di solito scorre poco più come un rigagnolo, un piccolo ruscello, ma sa trasformarsi in un torrente tumultuoso in grado di procurare lutti e rovine molti danni quando arrivano le ondate di piena e quindi occorre soprattutto liberare l'alveo dalla vegetazione che lo ha invaso. Rami, ramaglie, tronchi stanno sul letto del fiume e se arrivasse veramente un'ondata di piena questi ostacolerebbero il flusso delle acque le quali invaderebbero i campi circostanti sormontando gli argini e quindi occorre intervenire. E poi si parla del biodigestore a terre roveresche. C'è stato un ricorso al TAR da parte del Comune ma anche da parte dei comitati dei cittadini che protestano contro la realizzazione di questo impianto. Il TAR però non concede la sospensiva. Ebbene, tutto è stato rinviato al mese di marzo dell'anno prossimo, l'otto marzo. Ci sarà contemporaneamente la sentenza e del caso anche la sospensiva della realizzazione di questo impianto da parte della ditta appunto che intende realizzarlo. Il tanto atteso pronunciamento sull'istanza di sospendere l'autorizzazione a costruire il biodigestore a barchi non c'è stato. Anziché accogliere o rigettare la richiesta presentata dal Comune di terre roveresche e dal Comitato cittadino, ieri il TAR delle Marche ha deciso di riunire la sospensiva con l'esame di merito dei ricorsi fissando l'ugienza unica per l'otto marzo. Quindi occorrerà aspettare quella data. Ma sembra che la società non aspetti a realizzare, a cominciare a realizzare l'impianto. Procederemo da subito con gli addempimenti per l'avviare il cantiere, hanno detto, sbancamenti spero entro fine anno, hanno dichiarato i tecnici della società. Quindi il problema si sta veramente diventando sempre più acuto. A Urbino il caro bollette spaventa pure i più grandi. In questo caso anche il Conad subisce gli effetti del caro vita. Il Maxi Conad Montefeltro, la cooperativa che gestisce cinque punti vendita tra Pesaro e Urbino, lancia l'allarme. Un disastro. In novembre sarà ancora peggio. Rincari in bolletta, forniture ridotte, discontinue, impossibilità di programmare gli acquisti anche a lungo termine. La crisi economica ed energetica colpisce duro anche le realtà maggiori, quelle di grande impatto per quanto riguarda l'attività dei consumatori. Ebbene, come Maxi Conad Montefeltro, la cooperativa che gestisce cinque punti vendita tra Urbino e Pesaro. E secondo Massimo Monceri, uno dei soci, la situazione attuale dal punto di vista dell'energia elettrica ha una parola sola. È un disastro. E quindi occorre vedere e intervenire. E c'è anche chi cerca di arrampicarsi sugli specchi per cercare di resistere. Per restare a galla risparmiamo su tutto. È un'altra testimonianza di quanto fanno gli esercenti in trincea. Non c'è più sostenibilità, ma non si può neanche pensare ad aumentare i prezzi. Ebbene, che evidenza, cercano anche loro di restare a galla, come molti cercano di fare per non essere sopraffatti dal caro vita. Anche Urbino aderisce ovviamente alle giornate d'autunno del FAI, l'autunno caldo dei tesori da visitare. Secondo appuntamento, con le giornate del FAI di Urbino, si potrà accedere gratuitamente ai luoghi aperti dai volontari. Gratuitamente. Non ci sarà questa volta nessun piccolo importo da pagare. Ebbene, l'attenzione del FAI a Urbino questa volta si accentra sulla Università. Anna Santucci, che è docente di archeologia classica e delegata rettorale per la valorizzazione dell'Ateneo, ha un po' così esposto il programma di visite. E in questo rientra la nuova sistemazione del polo scientifico didattico Volponi in via Safi XV, ovvero l'ex Magistero, con le collezioni mineralogiche e la raccolta naturalistica. Poi ci sarà l'aulamagna del rettorato in via Safi II con la collezione L'Ogli, uno spazio istituzionale che durante la settimana è occupato per gli impegni lavorativi dell'Università e quindi non hanno una fruibilità pubblica. Quindi sarà una buona occasione per andarlo a visitare. Così come il gabinetto di fisica a Collegio Raffaello in Piazza della Repubblica e il Museo dei Gessi a Palazzo Albani. Questi sono i luoghi che il FAI di Urbino rende visitabili sabato e domenica prossima. E vediamo anche una notizia che ci giunge da Fossombrone. La città metaurese è stata visitata da un gruppo di tecnici, una trentina, per verificare le condizioni della viabilità forsempronese in occasione della tappa del Giro d'Italia che dovrebbe svolgersi il 13 maggio del 2023. Sono attesi oggi in città 30 tecnici dell'organizzazione del Giro d'Italia. Il loro compito è fare le ultime verifiche tecniche appunto sul percorso della tappa e quindi un'occasione, quella della tappa ovviamente, di promozione importante a carattere nazionale ma anche internazionale della città di Fossombrone. Apriamo il giornale anche sulla pagina di Pesaro dove torniamo a parlare del caro vita. Aumenterò ma di poco il prezzo del pane, sì perché anche il pane rientra in questo trend così problematico di aumenti. Lo faccio per salvare, ha detto questo fornaio, si tratta di Benvenuto Pagnoni per salvare i miei 22 dipendenti. Benvenuto Pagnoni è tra i maggiori panificatori in città, deve affrontare anche lui bollette sciocche, quella della luce è quasi quadruplicata dal 2021. Invece qui abbiamo in questa pagina un imprenditore che si è ingegnato per conto suo. Non paga più le bollette della luce pur consumando luce perché che cosa ha fatto? Ha sistemato nel suo giardino otto pale eoliche di sua costruzione e sembra che funzionino meglio dei pannelli solari. Si tratta di un dispositivo collegato all'impianto elettrico della sua abitazione che gli permette di non pagare alcuna bolletta all'Enel e alle altre società che forniscono energia elettrica, perché lui energia elettrica se la produce per conto suo. Ebbè, è una bella invenzione quella di un uomo industrioso che sa il fatto suo. 1500 euro ha costato il tutto, ma sono silenziose queste pale eoliche, funzionano anche con le nuvole e la pioggia. La gente si ferma a vederle e mi chiede informazione. Vorrei credere, tutti sono interessati a non pagare la luce. E qui vediamo una reazione alle polemiche che hanno suscitato le dichiarazioni del consigliere regionale Ciccioli. È il momento del dolore, non fatici sentire assurdità. È la rabbia dello zio di Mattia, il piccolo bambino che purtroppo è stato ritrovato deceduto dopo tanti tanti giorni di ricerche, dopo l'alluvione che è stata provocata dal Nevola. Ebbene, Ciccioli ha detto delle parole che sono state, così hanno sollevato sensazioni, hanno sollevato polemiche. Nessuno si permetta di dire che Silvia e mio nipote erano nel posto sbagliato, ha dichiarato Alessandro Fontana. Alessandro Fontana che è assessore comunale di San Lorenzo in campo e prima ancora è lo zio di Mattia Luconi, il piccolo che è deceduto, il bibbo di otto anni, portato via dalla violenza del Nevola. Insomma, una dichiarazione infelice che poteva essere risparmiata. Ciccioli assessore, ci sono anche risvolti politici intorno alle dichiarazioni fatte dal capogruppo di Fratelli d'Italia. Ciccioli assessore, ebbene per il centro-sinistra sarebbe una umiliazione per le Marche. Il gruppo consigliare del Partito Democratico ha dichiarato che il consigliere ha dimostrato insensibilità, Italia viva parole lesive delle memorie delle vittime. Insomma, c'è tutto anche un coinvolgimento di carattere politico, una contrarietà affinché Ciccioli ora assuma l'incarico di assessore dopo quello che ha detto. A Pesaro un lutto, un lutto per quanto riguarda una decisione estrema compiuta da un uomo sulla settantina ex dipendente pubblico, il quale ha deciso di farla finita. Tragedia, ieri mattina in violenza, va a casa dell'amica e poi si getta dal terrazzo. La donna lo ha visto aggrappato alla ringhiera, ha tentato di tirarlo su, ma lui poi si è lasciato andare dal quinto piano. Aveva lasciato un biglietto e aveva chiaramente detto di volerla fare finita. Mi manca l'aria, vado un attimo fuori, ha dichiarato alla sua amica. Poi qui ha compiuto il gesto estremo. Violenta una bambina di 11 anni, questo è un altro fatto di cronaca, è stato condannato. Le ha toccato in due occasioni le parti intime con la scusa di giocare a grattino. È stato poi assolto da altre due imputazioni per mancanza di prove. Il giudice ha liquidato una provvisionale di 5 mila euro e rimandato al giudice civile la liquidazione di tutti i danni, anche se si dice che nessuna somma potrà risarcire la minore per il male subito. È stato condannato comunque questo operaio di 61 anni, di Borgo Santa Maria, a due anni di reclusione per violenza sessuale sulla bambina di 11 anni. Insomma sono quegli episodi squallidi che non dovrebbero mai verificarsi. Ma si verificano ancora anche gli episodi di violenza sulle donne. Addirittura ultimamente nella procura di Pesaro se ne sono contati 5. Donne aggredite, boom di denunce, ultimo caso lei in ospedale. C'è una vera e propria raffica di casi di maltrattamenti denunciati alla procura della Repubblica di Pesaro. Almeno 5 casi in pochi giorni. Mogli, fidanzate, compagne aggredite, insultate, colpite da schiaffi e pugni. L'altro ieri un uomo è stato allontanato dalla compagna dopo che questa si è presentata al pronto soccorso con delle chimosi al volto. Ma questo è soltanto l'ultimo caso di una serie di angherie sulle donne di questa provincia che sembra veramente infinita. Ebbè non c'è ancora nessun limite alla violenza di chi non considera la donna un essere umano al pari suo. Domani chiude via Carloni. È stato annunciato da tempo questo provvedimento incubo file e file di automobili. Perché? Perché ci saranno dei percorsi alternativi che creeranno dei problemi. E quali sono questi percorsi alternativi? Lo vediamo qui in questo articolo del resto del Carlino. Agli automobilisti, spiega la comandante della polizia locale Francesca Muzzini, si consiglia di percorrere o via Petrarca o la Flaminia fino all'incrocio con via Fratti, angolo via Kennedy. Imboccare poi via Fratti e optare per via Trometta lungogenica e quindi via Sandro Pertini, l'interquartieri e viceversa. Ebbè è una situazione problematica che speriamo non duri tanto, si parlava di quattro mesi e che si proceda alla svelta per riaprire via Carloni. Concetti e famiglia sequestrati, 1,2 milioni di euro. È stata chiusa l'inchiesta che ha portato sotto indagine l'imprenditore e la sua ex moglie, quattro commercialisti e due consulenti per bancarotta. In una nota che è stata comunicata ieri dalle fiamme gialle di Pesaro, si legge che si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria denominata cassaforte di famiglia, nell'ambito della quale sono state indagate complessivamente otto persone. I due coniugi pesaresi, il Concetti e la moglie, tre commercialisti anconetani, un commercialista pesarese, un consulente pesarese, un consulente romano e sono stati emessi decreti di sequestro preventivo di beni per 1,2 milioni di euro. La finanza ha ricostruito tutto il flusso milionario sottratto a fisco ai creditori da questa organizzazione. Medici a gettone per coprire le incapacità. Abbiamo una presa di posizione della CGL in merito alla sanità della nostra provincia dopo l'esternalizzazione del servizio del pronto soccorso. Questo affidamento ai privati non piace certo ai sindacati. Anestesia e pediatria della regione annunciata una mobilitazione di carattere sindacale. Apriamo ora il Corriere Adriatico. Vediamo l'apertura sulla pagina di Fano. Si parla delle elezioni della carnevalesca in programma domenica prossima a Palazzo Bracci Pagani. Le operazioni inizieranno alle 10 e si concluderanno alle 20 quando poi inizierà lo spoglio delle schede. Uno spoglio che non ha storie perché c'è solo un gruppo che si presenta alla gestione dei prossimi quattro anni per organizzare il carnevale di Fano. Non c'è alternativa, non si possono depennare i nomi di questo gruppo, si può soltanto votare questa lista o non votarla. Quindi il fatto che non ci sia alternativa desta un po' qualche perplessità, dobbiamo dirlo. Ebbene l'assessore Lucarelli ha dichiarato che la mancanza di un'alternativa è il segno della crisi, della manifestazione, una crisi che però affonda le sue radici in tutti i vincoli a cui il carnevale è stato soggetto nel periodo del Covid, quando le manifestazioni si sono ridotte all'osso perché non si potevano organizzare iniziative con grande coinvolgimento di gente, con grande partecipazione di folla. Insomma è una votazione formale quella che si preannuncia e oggi il Corriere Adriatico elenca anche i nomi che fanno parte di questa lista che è preseduta da Maria Flora Gianmarioli, ovvero l'attuale presidente della carnevalesca, che si appresta a gestire il carnevale anche per i prossimi quattro anni. Quattro anni che dovranno essere decisivi, ha dichiarato sempre Lucarelli, nel senso che l'ente dovrà essere trasformato, dovrà essere posto in sintonia con le mutate esigenze di una manifestazione che è cresciuta alquanto in questi ultimi tempi, tanto da evidenziare un bilancio di 800 mila euro, una cifra considerevole che al momento pesa pensate, soltanto sulle spalle del presidente. Una cosa che non è più possibile procrastinare e quindi bisogna rimodulare il tutto, probabilmente si giungerà ad una fondazione. Ma chi sono questi personaggi, queste persone che si assumono il compito di organizzare, tutto volontariato, ovviamente non ci sono stipendi, per organizzare il carnevale per i prossimi quattro anni? Si tratta di Stefano Mirisola, di Saul Salucci, Alessandra Patrignani, Daniele Carboni, Valentina Bernardini, Cristina Fenocchi, Caterina Maggini, Raffaella Manna, Sara Olivieri, Fabio Signoretti, Tatiana Tonnini, Danilo Trastulli, Lucia Vicini, Filippo Rosati, Thomas Cavalieri, Gloria Riberti, Alessandro Eusepi, Gianni Paluzzi e Gianluca Ruscitti. Vedete che la lista è numerosa, però ci vogliono molte persone per organizzare il tutto, non c'è solo il corso carnevalesco, ma ci sono anche tante altre iniziative concomitanti. Sempre sul Corriere Adriatico si parla dell'Arzilla, è urgente intervenire. Sollecitazioni anche in Comune, Ruggeri del Movimento 5 Stelle incalza la Regione, lo fa anche Ser Filippi della Lega. I fondi, dice, sono stati stanziati per quanto riguarda la cura di tutto l'assetto idrografico della Regione, ma occorre particolare attenzione e nutrire per l'Arzilla, un torrente capriccioso, un torrente che può arrabbiarsi e fare molti, molti danni. Passiamo a Fano, anzi restiamo a Fano, restiamo a Fano perché vediamo che c'è una sentenza che riguarda una coppia di genitori che non aveva vaccinato il proprio figlio e lo aveva mandato all'asilo. Ebbene il Tribunale li ha assolti. Il fatto, ha detto il giudice, non costituisce reato, è stata accolta la tesi difensiva dell'illecito amministrativo. Si tratta soltanto di un illecito amministrativo e non di carattere penale, questo della mancata vaccinazione, insomma una giustizia che almeno soddisfa i genitori. E poi sempre su questa pagina si parla di un'iniziativa che si è svolta al liceo Torelli, dove c'è stata una conferenza interessante sull'agonia dei ghiacciai. I ragazzi dello scientifico, insieme a un gruppo di geologi e di ricercatori, hanno affrontato il tema che si inserisce nella più vasta problematica del cambiamento climatico, un cambiamento che interessa anche il nostro territorio, non per quanto riguarda i ghiacciai, anche se tracce di quest'ultimo sono state rinvenute, per quanto riguarda tempi molto, molto antichi, sul Monte Catria e sulle propaggini appenniniche del nostro territorio. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Allo studio due vasche di espansione, trasmessi moduli per i risalcimenti, finalmente questi moduli sono venuti alla luce e due vasche di espansione dovrebbero evitare i danni che il Misa ha prodotto scorrendo veloce fino alla foce. Due vasche di espansione dovrebbero fermare l'acqua prima che questa crei molti danni. E questa era l'ultima notizia per oggi. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con il Tg di Fano TV Occhio alla Notizia, condotto da Simona Zonghetti. E questo è tutto, a risentirci! Grazie!